È iniziato ufficialmente il nuovo corso dello Sferi Stereo, i due nuovi direttori artistico e musicale hanno svelato il cast e le produzioni 2018. Inauguriamo con Gran V, che è un regista di fama assolutamente internazionale, che non è mai stato macerata, quindi siamo molto contenti. Farà un flauto magico, un flauto magico che parla dell'attuale, del mondo ecologico, del mondo naturale che dobbiamo proteggere. Darà un segno di speranza, Pamina che affronta le prove e poi porterà a termine il suo processo, quindi sarà un flauto magico anche bello, poetico, che darà un bel idea di sviluppo futuro. Micheletto è in questo momento sicuramente il regista più importante che abbiamo in Italia, molto conosciuto all'estero, riduce adesso di un successo incredibile all'opera di Roma e porta l'Elisir d'Amore, sarà qua con noi a fare proprio la regia. È un Elisir d'Amore perfetto per lo sferisterio perché parla di una spiaggia e del mare, quindi il pubblico sarà il mare e il palcoscenico sarà una spiaggia di sabbia. E la traviata è la traviata meravigliosa che è stata già ripresa, è una traviata degli specchi, quindi per noi acqua, visto che parliamo dei quattro elementi. È una ripresa importante, è una ripresa che tutti gli anni ci dà grande soddisfazione. Star come Luca Salsi, triunfatore adesso dell'inaugurazione della Scala, John Osborne, Alex Esposito, un altro triunfatore adesso dell'Iroma, l'inaugurazione che è stata fatta adesso. Mariangela Sicilia, una splendida Dina. Salome Giscia, rivelazione del Festival Rossini di Pesaro di due anni fa, che ho avuto anche il privilegio di dirigere quest'anno. Ivan Rivas, un giovane tenore in grande ascesa, credo abbia soltanto 23 anni, ma ormai lo stanno già chiamando in tutti i più grandi teatri d'Italia e non solo. Un festival molto legato al territorio, ma di un respiro ancora più internazionale. Questo chiaramente si raggiunge anche attraverso produzioni importanti, affidate a team creativi di grande livello, a cui lo Sferisterio ci ha già abituato, e anche a collaborazioni con teatri di livello internazionale, con il Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia.